Noi ci siamo per gli altri, per il bene comune e quello dei cittadini. Affinché le cose vadano bene, in un momento di difficoltà, ci uniamo intorno a quelle persone che, come noi, sono in campo ogni giorno. Aspettando che arrivi un domani migliore e che il sole ritorni a splendere ed ad illuminarci, restiamo a casa, restiamo uniti.